Il viaggio che inizia qualche mese fa il direttore mi propose una relazione sul tema che da stamattina stiamo trattando ambiente, visione, eccetera e conoscendo la mia passione per la storia e il gusto per la storia di questa professione gli ho risposto che potevamo fare appunto un viaggio un viaggio che partiva lo vedete là in fondo nella farmacopea medievale c'è stato un attimo di perplessità al telefono uno spazio di vuoto io pensavo che mi insultasse e poi mi ha detto no lo facciamo allora il viaggio è nella farmacopea medievale cioè praticamente l'idea sarebbe di andare a cercare l'origine di quella che sta diventando nei nostri tempi un'ossessione che è quella forse partita come un gusto il gusto è quello dell'alimentazione per vederci bene per aiutarci a star bene ma che lo vediamo in televisione ormai tutti i giorni ci sono cuochi che raccontano cosa mangiare come mangiare quanto mangiare facendo la gara tra una e l'altra eccetera tutte le ore in tutte le reti e ormai parlare di nutrigenomica e di piramide alimentare è praticamente diventato un quotidiano insomma allora la domanda è ma questa è un'ossessione nata con la televisione con gli ultimi anni quando dobbiamo fare audience oppure a origine ben più in là stamattina poco tempo fa il buon Stefano parlava di tempi antichi parlando di una generazione fa come se fossero tempi ormai trascorsi dei quali non ci ricordiamo più niente io ho esagerato ho fatto un salto di mille anni così voglio vedere ho vinto praticamente un salto di mille anni quando possiamo pensare che nasce quella che è la farmacopea medievale nasce grosso modo mille anni fa per essere un po' più precisi nasce nel 1050 e finisce praticamente ridosso di quella che è diventata la farmaceutica invece moderna quindi è durata otto secoli questa cosa forse ce la facciamo eccola qua allora la storia della farmacopea medievale inizia praticamente con l'assemblaggio di questo libro lo vedete allora le diapositiva che vi faccio vedere adesso sono 180 non so se ce la facciamo vederle tutte insomma sono tutte in latino perché naturalmente nel 1050 si parlava latino anzi se avete visto la diapositiva prima l'avete letta sotto iscritto in piccolo c'era scritto in sabir non è neanche latino per cui quelli di voi che hanno magari facilità di memoria con quello che erano le cateline aria o il de bello galico è difficile leggerlo questo latino qui perché è un po' la differenza tra il cockney che si parla a Londra nelle strutture più pure e invece lo spanglish che si parla nel New Mexico insomma la struttura è la stessa l'inglese è lo stesso è il modo di dirlo è il modo di pronunciarlo qui siamo nel New Mexico per capirci insomma nel 1050 che cosa succede si viene per la prima per la prima volta raccolta questo che si chiama Regimen sa a capo Nitario io non lo leggo da qua Sanitario come esposizione magistri Arnoldi di Villanova Catellano Noviter voi lo leggete io non lo leggo più perché forse lo leggiamo da lì più facile Impressos ok allora che cosa succede siamo nel 1050 per capirci nel 1050 si chiama Medioevo e per quelli che hanno poca dimestichezza con i tempi della storia il Medioevo è un buco che qualcuno chiamò i secoli bui insomma Montanelli in un libro con Gervaso lo chiamavano l'epoca dei secoli bui ma in realtà è un buco di storia che sta tra la fine dell'impero romano e l'inizio del rinascimento l'impero romano finisce ufficialmente nel 476 se avete visto forse una settimana fa c'è stata l'ultima legione che era quella storia lì insomma c'è la deposizione di Romolo Augusto 476 arrivo ad Oacre l'impero romano d'Occidente finisce c'è il buco del Medioevo che ufficialmente comincia da lì qualcuno dice che aveva già cominciato con Costantino cent'anni prima e finisce il Medioevo con l'inizio del rinascimento è una storia ancora tutta italiana cioè italiana in questa penisola l'Italia non c'era il rinascimento comincia ufficialmente nel 1402 qui a Bologna con la morte di Azzone Visconti che assediava Bologna per poi metterle mani su Firenze muore lui tutti fanno grande festa inizia il rinascimento si può pensare che in realtà inizia cent'anni prima con Dante quindi cento più cento meno sono mille anni di buco nero chiamato Medioevo il Medioevo viene diviso in tre parti come si fa con gli infrarossi e gli ultravioletti la si chiamano A, B e C e qua si chiama alto, medio e basso quello di cui parliamo è il basso Medioevo che va dal mille al mille due mille tre cento più cento meno ufficialmente è mille cinquanta quindi siamo proprio nel buco nero del basso Medioevo basso Medioevo in cui per capire qual è la geografia prima che mi buttino fuori ve la racconto non c'è più un potere politico perché l'impero romano non c'è più quindi in realtà non si sa più a chi affidarsi ma non c'è neanche un potere religioso la chiesa non è ancora diventata quella dei Borgia del quale stendiamo un velo perché insomma poi sarebbe bello parlare di che cosa succede cinquecento anni dopo con i Borgia non c'è ancora quello però ci sono tre cose sono successe tre cose fondamentali dal momento del buco dell'impero romano dalla fine dell'impero romano uno è la nascita del monachesimo cioè la gente scappa dalle città dalle campagne all'inizio del quattrocento cinquecento perché appunto non si sa più qual è il capo chi comanda e cominciano a rifugiarsi negli anfratti nelle grotte a fare gli eremiti e a fare gli eremiti vuol dire che vivevano con la natura e della natura cioè con la natura si alimentavano zucchine pomodoro e piselli a pranzo e a cena e con la natura si curavano cioè hanno cominciato a pensare che la ruta o la mentuccia poteva essere utile per curarsi le patologie quindi la natura era maligna e benigna cioè dava toglieva curava e faceva tutto questo è l'inizio di una storia fondamentale per quello che poi è diventata la cucina moderna quella dei cuochi che fanno le gare tra di loro comincia lì comincia nel 500 quando si studiano le erbe si cominciano a pensare che ci sono delle erbe che naturalmente si presume insomma che funzionano e funzionano meglio delle altre che per curare subito dopo c'è San Benedetto lo faccio veloce San Benedetto il monachesimo nascono i conventi questi scendono dagli eremiti vanno nei conventi e entrano a creare quegli spazi in cui cominciano a suddividere le erbe da normali a erbe speciali e le erbe speciali diventano speciali e lo speciale è poi colui che si occuperà poi da qui all'ottocento quindi pensate di 1200 1300 anni lo speciale è quello che si occuperà di fare delle erbe le erbe che curano che curano anche gli occhi evidentemente la seconda cosa è che nel 600 nasce l'islam 650 nasce l'islam e nell'ottocento nel 1000 praticamente quando c'è la nostra storia nel 1000 l'islam ha già conquistato tutta la parte sud del Mediterraneo che era romana è diventata ottomana l'impero ottomano va dall'India al Marocco risalendo dal Marocco anche all'interno della Spagna e creando la base lì Granada Siviglia insomma e Cordova splendide ancora le cose che sono rimaste insomma dell'epoca terza cosa attorno al 1000 poco prima del 1000 nascono le Repubblica Marinare Repubblica Marinare ne nascono decine perché tutti i portini i porticcioli i porti grandi eccetera a noi sembra che siano solo 4 perché sono 4 quelli sullo stemma della Marina Militare ma in realtà erano decine c'era per tutto Repubblica Marinare e lo vediamo la Repubblica Marinare ciascuno aveva un fondaco a Venezia c'è ancora il fondaco dei tedeschi insomma che succede nella nostra storia nel 1050 cominciano ad essere raccolte proprio raccolte andando in giro per i conventi tutte quelle ricette chiamiamola ricette che in realtà si chiamavano antidotari perché c'erano gli antidoti erano una raccolta di erbe che servivano a controveleni quindi antidoto al veleno quindi tutti questi antidotari cominciano ad essere raccolti a Salerno non è Venezia non è Venezia insomma le città che noi conosciamo nella storia è Salerno perché se a Salerno sarebbe fantastico ma la storia nasce dall'Ottocento dove già si faceva medicina a Salerno poi c'era vicino la Repubblica di Amalfi che naturalmente andava sulle coste del Nord Africa vengono raccolte tutte queste cose qui naturalmente tutte manoscritte buttate lì in una sorta di mega biblioteca nel 1200 questo signore Arnaldo o Arnoldo da Villanova sembra catellano cioè della Catalogna sembra che abbia studiato a Montpellier sembra Monaco naturalmente non c'erano i documenti quindi non c'era neanche il Vasari che faceva ancora già lo scritto su tutti i personaggi illustri questo personaggio che cosa fa? prende tutto ciò che era stato già messo in questa mega biblioteca di Salerno e comincia a ordinarla dividendo le erbe quelle che servono per alimentarsi a quelle che servono per curarsi e quelle che servono per curarsi mettendoli in fila quelle che curano gli occhi quelle che curano il fegato quelle che curano il cuore e via di questo passo comincia a fare a sistemare questa cosa qua ancora tutta mano siamo nel 1002 la stampa arriva nel 1450 nel 1515 in Italia arriva da Magonza nel 151538 c'è la prima stampa a Venezia di questo qua di questo materiale di questo raccolta di cose e a questo punto dal 1200 quando viene organizzata alla fine del 1700 viene stampata ristampata corretta ricorretta e tradotta in tutte le lingue e d'Europa tutta questa cosa qui praticamente questo rimane il manuale di di medicina non solo ma anche di scienza alimentare quindi era il dietologo e anche il medico che usava lo stesso materiale per dire per fare profilassi cosa mangiare come mangiare quanto mangiare per evitare di ammalarti ma nel caso fossi ammalato allora ti dico anche che cosa prendere perché visto che ti sei ammalato vi dicevo che questa cosa rimane praticamente fino alla fine del 1700 l'ultima stampa del regime Salitati Salerni è del 1780 e vedete che nel 98 simbolicamente si pensa si dice ma naturalmente le detalle sono simboliche come quella del medioevo si possa iniziare la farmaceutica moderna quindi la farmaceutica medievale dura otto secoli grosso modo viene scritta in latino eccetera che cosa raccoglie il regime Salitati Salerni in latino latino che poi non è più latino ma insomma quella roba lì raccoglie tutta l'esperienza che c'era stata prima che era greco-latina e greca il libro prima come dire il testo precedente è del 350 c'è Alessandro Magno per capirci c'è Aristotele insomma subito dopo di questo c'è Socrate per capire l'ambiente della Grecia la Grecia classica quella che noi chiamiamo la Grecia classica va dal 500 al 300 250 insomma qui siamo proprio nel mezzo del del fioriere della Grecia più classica Ippocrate che raccoglie scrive questo Corpus Ippocratimum cum che lo vedete lì sotto e Ippocrate raccoglie in realtà l'eredità di un tale Esculapio Esculapio che è quello che compare sul bastone dello stemmino che hanno appeso all'occhiello della giacca i farmacisti e poi vedete anche l'organizzazione mondiale della sanità insomma il bastone di Esculapio quindi praticamente quello che raccoglie il regime sanitario di Sanernitanni è l'eredità che viene dai greci ma praticamente da Apollo perché Apollo sembra che abbia ispirato Esculapio e quindi di tradizione in tradizione arriva lì quindi praticamente da Apollo al 1800 cioè a Jenner praticamente sono state quasi sempre le stesse cose che cosa sono le stesse cose sono queste qui se riusciamo a vederle ecco nel Corpus Ippocraticum cioè il testo di medicina precedente al capitolo della vista si raccontava che i dolori degli occhi sono rimossi dal bere vino puro dai bagni dai fomenti dal salasso e dai purganti perché Ippocrate sosteneva che la teoria omorale deve il benessere del corpo era basato sull'equilibrio tra sangue bila nera bila gialla e flegma cioè quattro umori che circolavano all'interno del corpo e se uno di questi umori o tutti e tre erano o peccanti o concotti o putredinosi naturalmente bisognava esperlerli concotti voleva dire assolutamente ormai assorbiti facente parte di uno stesso cioè metabolizzati più di tanto bisognava espellerli come si fa espellere degli umori o li si asciugano quindi si applicavano delle sanguisughe che ormai diventavano grosse come delle lontre prima che le dovevi rimuovere insomma il soggetto era sicuramente guarito perché poi non c'era più niente però perlomeno era guarito oppure degli altri sistemi che ve li faccio vedere dopo Sergio ancora 22 minuti scusa due minuti lo fai apposta no 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 me l'hai chiesto tu me l'hai chiesto tu ma io te l'avevo chiesto prima non se allora no perché dovevo arrivare a caso di tuo nonno io sono arrivato lì c'era tuo nonno che era però tu te la sei presa perché te ne senti vabbè allora la faccio breve insomma il regime sanitario di Salernitano che prende vari nomi nella storia vedete lì 1050 insomma lo faccio vedere è questo questa qui è la copia anastatica di una delle tante traduzioni questa qui è quella del 1733 fatta a Venezia da parte del medico personale del duca di Gonzaga allora questo medico traduce fa una delle tante traduzioni ed edizioni questa è stampata nel 1733 ed è praticamente la penultima quella dopo il 1780 poi non si stampa più e si pensa ad altro insomma e qui contiene in latino in un italiano del 1700 fantastico da leggere insomma questo testo non è lo stesso quello in latino non è lo stesso che c'è in rete perché in rete c'è un testo del 1500 quindi se lo si confrontano là ci sono delle cose che qui non ci sono c'è un dato comune che è quella dell'idea dell'uso delle erbe vi faccio vedere soltanto questa prima che Caronte qui mi porti via e traghetti alla prossima relazione avete visto quello che diceva prima Ippocrate quello greco e qui invece il testo latino praticamente fate conto mille anni dopo e anche qualcosa di più dice che Venere come prima dato vedete che in latino è il terzo in italiano viene messo per primo quindi come dire è una sorta di monito a chi leggeva questa cosa Venere è chiaro che a che cosa ci si riferisca i bagni il vino il pepe il vento il fumo l'aglio con la colla con la cepe l'aglio con la cepe no scusate io leggo male perché le progressive hanno il canale corto è così però il porro con la cepe allora la cepe era un un mollusco una sorta di lumachina insomma di lumaca la fava il pianto la senape la lente il sole il coito stendo un velo la fatica il fuoco il vigilar la polfe e lacre cose ai quanto recandanno agli occhi nostri allora già su questo se non ci fosse Caronte ci perderemo una mezz'oretta a raccontare perché nel testo latino di mille anni dopo c'è venere il coito che non c'erano prima però in fascia protetta certe cose non si possono dire in seconda serata vi racconterei che cosa c'è dietro su questa cosa però non me le fanno dire quindi vabbè quali erano le erbe che secondo i salernitari la scuola di Salerno potevano giovare assai giova il finocchio e la verbena la celidonia che è un'erba non so dirvi come sia questo non lo so la ruta e la rosa distillandone l'acqua al mal degli occhi veramente l'originale poi in esametri per chi conosce un po' il latino se lo ricorda in esametri erano sei accenti perché questo perché non c'erano i tablet e bisognava ricordarseli quindi scrivere qualcosa che si recitasse così e poi andare a capo facilitava il memorizzare il tutto che cosa succedeva al Mauro Frisani che con l'occhio ci sposo andava dal dal farmacista cioè a curarsi a chiedere il rimedio il buon Frisani si sentiva dare qualche rimedio normalmente era la ruta che veniva messa in bottigliette come queste qui dentro c'è sangue di iguana che non vi dico cosa serve perché siamo a digiuno quindi sangue di iguana e si chiamavano bottaceli cioè bottigliette in buona sostanza venivano messe dentro la ruta dentro in questa cosa qui triturata macerata con aggiunta di acqua normalmente acqua adoppiata cioè con l'aggiunta di oppio così per lo meno per un po' ti dimentichi dei tuoi problemi e poi veniva dato il modo in cui doveva farsi il suo impiastro però non ve lo posso raccontare perché lui se la prende poi non vuole sentire come va a finire però vi avrei raccontato come si faceva il collirio noi oggi per il collirio sono quelle gocce da mettere sotto congiuntivali il collirio in greco è un impiastro una mucillaggine calda questa è la traduzione è una mucillaggine che veniva impiastrata direttamente sull'occhio il più delle volte se c'erano delle erbe erano fatte con erbe ma lo facevano già gli egizi usando l'interiore di rana e quindi si prendevano l'interiore di rana si maceravano si facevano così si allungavano e si pacciavano sull'occhio si chiamava collirion e poi si vedeva se l'occhio ci sposa se passava bene se non passava gli facciamo qualcos'altro insomma vi hanno chiuso? abbiamo chiuso scusate non vi ho raccontato fantastico Sergio vi avrei raccontato vi avrei raccontato di quanti rimedi domestici ci sono qualcuno di voi so scoffre di scrofole ad esempio c'è la possibilità di curarsi in casa le scrofole senza andare dal dottore con degli senapismi degli impiastri però non ve lo posso dire se qualcuno lo vuole sapere iscrivetevi già da adesso al prossimo congresso così avete un posto in prima fila e vi racconto il resto scusate grazie 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 grazie